A fronte di circa un miliardo di persone che soffrono la fame ce ne sono forse altrettante se non di più che soffrono o rischiano di ammalarsi per problemi legati alla sovralimentazione o la nutrizione sbagliata, quindi a stili alimentari scorretti. Professor Poggio, lei come membro del Dipartimento di Brain and Cognitive Science dell'MIT, ritiene che l'innovazione e la ricerca possono avere un ruolo anche nel modificare i comportamenti collettivi in tema di alimentazione? Penso che si possa fare molto a livello dell'educazione con un caveat che è quello che in questo modo si, con l'educazione si può raggiungere un certo strato della popolazione nel mondo che ha un livello di educazione di base soddisfacente. Per esempio attraverso l'internet cominciano a diffondersi, non voglio fare la propaganda a nessuno, ma questo è un aggeggio che misura quante miglia faccio al giorno, quante ore dormo di notte ed ha una interfaccia col web fatta molto bene, per cui aiuta a tenere conto di quante calorie ho mangiato al giorno, che tipo di calorie e così via. Diventa un gioco molto, molto, non solo interessante, ma che cattura anche l'attenzione e aiuta moltissimo psicologicamente a mantenere un'alimentazione adeguata, un'attività buona e così via. Ho l'impressione che tra gli amici, la gente che conosco, questo si ti fonderà moltissimo, per cui credo che ci siano dei mezzi, questo è uno, per appunto educare la gente a vivere in modo più sano e alimentarsi in modo più sano. Il problema è come raggiungere le persone che non hanno l'internet, per esempio, e lì siamo appunto, quello è il problema grosso di raggiungere persone che non hanno o soldi abbastanza per mangiare o ne hanno appena abbastanza da mangiare e allora mangiare male. E lì purtroppo credo che sia una questione di educazione direttiva più, pensando per esempio all'America, più dallo Stato, non c'è altro modo. C'è naturalmente sempre la prospettiva che spero avvenga, ma chissà quando, di sviluppare dei medicamenti che agiscano direttamente a livello del cervello, del controllo dell'appetito e della scelta del tipo di calorie, cosa che con i progressi della neuroscienza non è da escludere. Si sono già individuati centri nel cervello che, per esempio, aumentano la fiducia che uno ha nelle persone. Sono dei meccanismi di cui ha parlato anche Cristofero Anzaloni oggi, che agiscono a livello di controllare l'alimentazione sanguigna, le celle grasse. Però pare che ci possa essere anche un effetto secondario dovuto proprio all'azione sui centri del cervello che controllano l'appetito. Quella sarebbe, naturalmente, una soluzione o parte di una soluzione più a largo respiro, diciamo. Dalla comunità di ricercatori di cui lei fa parte, ha la sensazione che il tema della nutrizione del cibo stia acquisendo rilevanza negli studi? I ricercatori, gli studiosi, rispetto al passato, si stanno occupando più di questo settore, quello, intendo, agroalimentare? Dal punto di vista della ricerca scientifica direi che sì, l'aspetto, diciamo, di cibo, di cose come mangiare sta diventando importante, almeno visto dalla mia prospettiva della neuroscienza, perché cominciano a esserci delle direzioni di ricerche proprio per cominciare a capire come il nostro cervello funziona nel controllare le calorie e nel controllare anche addictions che si possono avere proprio per il cibo. C'è questo tema generale dell'addiction, dell'essere addicted a droghe oppure, nel senso largo del termine, anche attività specifiche, cose particolari, si cominciano a capire quali sono i meccanismi biochimici di neuroscienza, di parti del cervello e dei tipi di neuroni che controllano queste attività, per cui, se non altro dal punto di vista della neuroscienza, sta diventando un tema sempre più interessante. La ringrazio, professor Poggio.